Il 1984, come si dice terremoto a Casalvier? Tarramute, o no? Perché noi della Val Comino esprimiamo meglio le cose, perché terremoto è una cosa, terremoto, ma Tarramute, una Tarramute, eh? C'era una, sta andando, che diceva che ce volesse, ecco il signore lo conosce, Biancoline, diceva che ce volesse un terremoto sussultorio, ondulatorio e accernatura. Sapete che è la cernatura? Dunque, il problema del terremoto nostro è stato soprattutto uno, perché noi poi siamo pratici, insomma, non estremo a fare tanta retorica, noi della Val Comino sul terremoto. Il problema del Tarramute, scusate, è stato, è fatto due volte, giusto? E una volta è fatta alle sette di sera, più o meno, e una volta è fatta a luna di pomeriggio, cioè è fatta sempre quando sarebbe a mangiare, e uno dice, fanno mangiare prima, e dopo, questa è la cosa che è rimasta impressa. Adesso, scusate, trovo il Tarramute a pagina. Si sente bene? Vai, poi c'è il tecnico che mi dice se c'è qualche problema. Lunedì è va agli sette di maggio, allora che si ringhiano la piazza di San Matteo, gli cristiani, per caso agli passeggi, mediamente si facevano gli cazzi, le mirne va passate bene o male, se va serino nuvole, muovate a ricordare, quando è che dalla torre le pretali, se sono tutte trattate. Il protettore del Tarramute è il Tarramute, perché io aveva fatto la canzone originariamente, aveva detto, oi San Gesine, dice fermate, San Gesine, quella è un'altra cosa, c'è un Tarramute, a furor di popolo, oi San Dammute. Oi San Dammute, e questo è proprio il Tarramute, scappiamo fuori, ma non siamo ripalliti, io mi ricordo quando raccontavo a tata, a ieri a fa, a ieri a sta sotto una tenda namasata. Perché tata? Tata, le poadre, si ricordava il terremoto del 15, dovemmo stare fuori di casa. A ieri a sta fuori di casa namasata, le Tarramute straviziate e dissolute, le Tarramute che mi hanno quando arrabbiate, ma quello che più scocce non ci si può passare, e ne che arriva sempre all'ora di mangiare. E si fece pure l'11 di maggio, a sta sotto una tenda, dopo pure sfasta dià. Perché non so se si fece pure a Casalviena, insomma si andò tutti al campo sportivo sotto una tenda, dopo 7 uomini dice che stiamo a fare, io non mi muovo più niente. Sarà giusto, ma non insieme da campeggio, che alcune già smaniava, che va ora da rendere la vita senza casa è fastidiosa, e senza piazza come si può stare. Quando è che a me si vuole neanche cosa? Ora attacca a trattacca, oi che destino è qui se è nata la Tarramute, sta vuota a nostra spalla s'andrannata, a me mi pare che sia fatta nel normale, se te te molo dice gli telegiornali, le Tarramute che mi hanno quando arrabbiate, ne bobe che fra botte sta anguastita, ma quello che più scoccia non ci si può passare, e ne che arriva sembra allora da magna. Grazie.